Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti allo stand Alfa S. Oggi vogliamo presentare il nostro ibrido da 30 kW, continua la traduzione dell'All-in-One dell'Alfa S. Il nostro 30 kW ha l'opzione di 12 batterie da 8 kWh, quindi arriviamo quasi a 100 kWh di batterie, interamente integrato e plug and play praticamente. Tra pochi mesi il nostro 30 kW sarà possibile abbinarlo con altri due di questi, fino a 90 kW di inverter e 300 kWh di batteria, già certificato e pronto consegna da Milano per l'Italia. Questo è il primo passo verso il commerciale di piccola e media dimensione Italia e stiamo spostando anche ora sul 250, il 500 e il megawatt, che già abbiamo disponibile in Italia, scusate in Europa, ma arriverà qui tra pochi mesi. Grazie.